Ben trovati, il gol di Rabiot era regolare, ne parleremo fra poco naturalmente, è già nuovamente riesplosa la macchina del fango. Rabiot sette gol quest'anno e due, presenze in campionato, centrocampista moderno, sa fare la doppia fase, sa giocare bene, ieri sera poi come vi ho detto nel commento del post partita si trovava a centrocampo con due ragazzini, uno bravo bravo che fa gioli, che secondo me non è più un ragazzino, un titolare e l'altro il cui nome è un po' particolare, non lo dico perché non me lo ricordo, Barri ma come caspita si chiama, speriamo sia sicuramente nel futuro un gran bel calciatore, oggi è uno che fa il compitino, non ha il passo, quindi se Rabiot si trova a centrocampo a dover ancora una volta fare gli straordinari, sale in cattedra un calciatore davvero brillantissimo che probabilmente la Juventus perderà a parametro zero quest'anno, tutto ciò per fare la guerra a Paredes, ma di questo già li abbiamo ampiamente parlato, non lo ha fatto giocare nemmeno contro l'ultima in classifica, non lo ha fatto giocare nel derby, poi non lo ha fatto giocare contro l'ultima in classifica, cioè praticamente questo ormai è come se non lo avesse, poi si lamenta che non ha i calciatori, li distrugge, li porta sfiniti e poi non ha i calciatori, il problema della Juventus è sempre là, è sempre allegri, ora apprendiamo che Pogba avrà 20 giorni e ancora una volta si è fatto male, se questo non gioca si fa male, quando poi è arrugginito si fa male, allora se davvero quella sera non era infortunato e si era presentato alla cena in ritardo, fagli la multa ma metti gli minuti nelle gambe, è in questo modo che lo sta distruggendo ancora di più perché questo infortunio è ulteriormente colpa di Allegri, perché io non ci credo che questo calciatore non può giocare, ormai da tempo a disposizione ha giocato con le seconde, le terze squadre, ha giocato spezzone di partita con il Torino e contro la Roma, poi all'improvviso nuovamente si infortunia, ma a chi la vogliono dare a bere la questione Pogba? A chi la vogliono dare a bere? Io non credo più, io non credo ad Allegri, non lo credo, per me è un farsario, è uno che immagheggia, fa giochi di prestigio, non come dice Zazzaroni la sera che pur di leccargli il culo in una maniera vergognosa dice che è un genio del calcio, è un genio ma del non calcio, altro che del calcio, ma non scherziamo, questo perché, sembra la mia teoria storica, gli giuventini graditi agli anti-juventini non sono buoni per la Juventus, ripeto, gli giuventini graditi agli anti-juventini non sono buoni per la Juventus, quindi se Zazzaroni che è un emerito anti-juventino, uno che fa le Marchette nelle tv napoletane come dissi l'anno scorso io a Tikitaka, dice che Allegri è un genio del calcio, io dico che invece è un genio del non calcio, è un genio a distruggere le squadre, è un genio a distruggere i calciatori, sotto questo aspetto è un grande genio, è un genio a non vincere titoli con una squadra la migliore che c'è in ZDA, certo che è un genio perché ci vuole genialità, per non vincere con questa squadra, ci vuole genialità per stare a 15 punti dal prima in classifica, ci vuole genialità a uscire dalla Champions League, ci vuole genialità a far giocare Miretti, no quella non è genialità, quella è mala fede, perché quello è del suo stesso procuratore, ci vuole genialità a prendere un calciatore che fa la figlia di lana e di colpa del mondo parede se non farlo giocare mai, ci vuole genialità a fare queste cose, sì che è un genio Allegri, è un grande genio, vabbè di questo personaggio abbiamo le scatole proprio piene di Allegri, dei suoi leccacuri, di tutto quell'amparadan di parolai che ne esaltano la presenza ma sono anti-juventini, sono totalmente anti-juventini e parliamo però del fango degli anti-juventini, non aspettavano altro, non aspettavano che l'episodio e l'episodio è arrivato, un presunto mai dimostrato fallo di mano di Rabiot sul gol del 3-2 per la Juventus contro la Sampdoria. Inutile dire che il genio del non calcio, cioè Allegri, aveva anche ieri sera mischiato talmente tanto le carte con una serie di calciatori fuori, altri non li hanno fatti giocare per mettere dentro Miretti e altri ragazzini, se i ragazzini li metti dentro tutta una volta hai difficoltà pure con l'ultima in classifica e quindi la Juventus stava avendo difficoltà anche con l'ultima in classifica, una squadra che non si può iscrivere al campionato come la Sampdoria, per cui Stankovic non potrebbe allenare, ha fatto il comizio a fine partita, ha fatto il comizio, quello schizzato, sembra un allenatore, gli faresti allenare una squadra di terza categoria, uno schizzato del genere, come Stankovic, onestamente. Allora tutti quanti si stanno inventando, partendo dalla grande miccia anti-juventus, perché qual è la grande bomba anti-juventus? Qual è la grande miccia che si accende dopo le partite della Juventus? Anti-juventus, naturalmente Merdaset. A Pressing, che è un covo di anti-juventini, un covo di gente col fucile spianato contro la Juventus, con Cesari che è un falsario, è una marionetta, è una barzelletta a tutti i livelli, ha cominciato a mettere in discussione il gol di Rabiot. Poi, dietro di lui, tutti quanti, figuriamoci un tal, certo lo chiamano Marelli, uno che è stato sbattuto fuori dalla Federazione Italiana a gioco calcio ai a settore arbitrale, e non vi dico il perché, ma immaginatelo. Io l'ho letto poco fa, perché figurate se io mi vedo, non tengo da Zorro, non tengo in irmi, vado a vedere la partita a Scrocco, dal mio amico Alessandro Marciano alla SNAI di Agropoli a Scrocco, e quindi non vedo nel commento niente perché mi rendo conto che è tutto un teatrino anti-juventus ogni volta che succede, allora leggevo che addirittura questo Tal Marelli, che io ho bastonato migliaia di volte sui social, ogni qua volta lui è venuto a pizzicarmi, perché è venuto a pizzicarmi, non una, cento, mille volte negli ultimi 8-9 anni, è bene che lo sappiate, è bene che sappiate chi sono i personaggi che oggi vi parlano, ai quali voi pagate e per i quali dovete disdire, dovete disdire questa gente. E sul telefonino mi sono visto un po' le repliche di questo pressing, perché mi hanno detto che Cesare sta facendo il pazzo, e ho visto che lì hanno cominciato, e poi tutto il fango mediatico sui social, sul gol di rabbio regolare, gol regolare, come fecero con quel famoso rigore di Perisic su quadrato, rigore netto, addirittura Del Piero disse che non era rigore, andatevelo a rivedere mille volte col cambio di direzione di quadrato, dopo che in quella partita almeno 5 volte arbitri, VAR, quarto uomo, avevano danneggiato la Juventus, a tutti i livelli, quella Juventus-Inter, con l'Inter che già aveva vinto il suo presunto scudetto, perché per me quello non è uno scudetto, il campionato non si doveva disputare, a porte chiuse, la squadra dell'Inter non può giocare in questo campionato, non pagavano gli stipendi, ne hanno fatto vincere il campionato, va bene. Arriviamo al dopo partita, perché a me lo sono visto, prima di fare questo video, mi sono visto un video di Stankovic, perché mi hanno scritto, ma hai visto che ha detto Stankovic? E mi sono vergognato per lui, sta monnezza, sto schifoso, parla in quel modo, ma ricorda la partita dell'andata che è successa, gol annullato a Vlaovic per un fuorigioco di un centimetro di Dabbiolo, rigore netto su Vlaovic, fallo da chiarazione da gol, non fischiato, lui non c'era in panchina, ma l'arbitro è lì, fece il pazzo contro la Juventus, all'andata. Ora fa un comizio di mezz'ora dopo la partita, per un fallo di mano è evidente che non c'è, lo hanno fatto vedere in tutte le salse e non c'è, e mentre non c'è, vi dicono che c'è, come l'anno scorso in Torino Inter, il VAR diceva palla, palla, mentre quello dava un calcio al piede, non dietro il rigore al Torino, cioè sono farsari, cioè vi prendono per culo in diretta, vi prendono per culo mentre si vedono le immagini, cercando di deviarvi il cervello, a me non l'hanno mai deviato, a me non mi hanno mai preso per culo, perché io quando c'è un calcio di rigore, lo dico, nessuno invece ha parlato di un rigore netto su Vlaovic del portiere della Sampdoria a fine primo tempo, sempre sul 2 e 2, lì nessuno parla, lì nessuno ha fatto vedere niente, lì nessuno ha fatto vedere la vergogna di quell'arbitro del VAR, anche se poi secondo me l'arbitro tutto sommato ieri sera ha arbitrato bene, ma un rigore netto, con il portiere che travolge il Vlaovic, oltre che l'arbitro non l'ha visto, non l'ha voluto chiamare, oltre a non essere andati al VAR, non l'hanno fatto vedere nemmeno le moviore, e non lo vedete nemmeno sui social, su Twitter non esiste proprio, e poi vanno a fare trasmissioni intere sul fallo di mano di Rabiot, ma non scherziamo, ma di cosa stiamo parlando, ma quale schifo è questo, io fino a quando avrò voce, fino a quando sarò qua o piuttosto da un'altra parte nelle televisioni in cui mi chiamano, dirò quello che vedo, e io mi ritengo onesto intellettualmente, se per me, io devo dire la verità, in diretta, un po' fallo di mano mi era sembrato, poi ho rivisto Vendimo, Viole, migliaia di foto, non è mai fallo di mano, mai in primo luogo perché le mani sono attaccate al corpo, ma poi non ci va proprio sulla mano, e quando la mano è attaccata al corpo mai è fallo di mano, mai disonesti che siete, siete dei disonesti, vergognosi e disonesti, quello siete, e parla pure quello schizzato che viene da quella provenienza, questo Stangovic, vi ricordate quando ci fu la polemica con gli striscioni che i tifosi della Juventus non lo vogliono, ecco perché in quella circostanza avevano ragione quando non volevano Stangovic alla Juventus, avevano perfettamente ragione, per cui è inutile che ci girate intorno, il gol era regolare e questi stanno col fegato gonfiato, i nove scudetti consecutivi li hanno devastati, ce ne stiamo accorgendo anche in queste situazioni dove hanno voluto per forza coinvolgere la Juventus in processi sportivi dove la Juventus non c'entrava proprio perché poi sono così tanto in mala fede, perché sono in mala fede, che da una parte dice, oh ma nella carta segreta la Juve non viene citata, allora se nella carta segreta la Juve non viene citata non va condannata, perché non c'entra la Juve in questa vicenda, invece quella è una carta compromettente, prima, innanzitutto perché, adesso qui andiamo nel filone giudiziario, perché nelle carte che devono arrivare o che sono arrivate alla Juventus c'è anche il carteggio della Covizocca che nessuno ha citato, ma che è chiaro, che deve arrivare, c'è un'altra ulteriore carta del 31 marzo del 2021, 15 giorni prima, come già abbiamo detto in precedenza. E poi c'è un aspetto un po' particolare, io poi rispetto a tutti quanti gli altri ritengo che la FGC è giusto che sia andata al Consiglio di Stato, ci deve andare, deve andare al Consiglio di Stato perché non è possibile che non rispetta quelle che sono gli iter, Gravino ha fatto bene ad andare al Consiglio di Stato, fossi stato io il Presidente della Federcalcio sarei andato al Consiglio di Stato, perché innanzitutto per il principio che loro devono mantenere, quello della giustizia sportiva e dell'autonomia della giustizia sportiva, che già il TAR comunque ha bacchettato perché ha detto è giusto che voi abbiate un'autonomia, ma non potete mettervi sotto i piedi il diritto e quindi è giusto che il diritto non venga messo sotto i piedi, il TAR li ha presi di mira sotto questo aspetto e già questa è una grande vittoria, una svolta epocale, la sentenza del TAR di là della carta è una sentenza epocale, una svolta epocale perché questi non possono fare i porci come di loro nascondendosi dietro la giustizia sportiva piuttosto che l'articolo 4 che è quello delle norme generali con le quali fottono sempre la Juventus, quindi il TAR ha fatto già benissimo, ma per onestà è giusto dire pure che Gravina doveva andare al Consiglio di Stato e ci è andato, il Consiglio di Stato non ha dato la sospensiva, la carta è a disposizione, il 23 vedremo se, e qui lì potrebbe avere una sconfitta la Juventus noi ci auguriamo di no, in pratica se il Consiglio di Stato nella Camera di Consiglio dirà se questo carteggio può essere ammesso al Collegio del CONI, al Collegio di Garanzia del CONI, dove che cosa si verifica? Si verifica che la FIGC non ha intenzione di presentarsi per sostenere la sua motivazione del 20 gennaio, quindi non ci sarà chi né a fare la ringa, a presentare l'accusa alla Juventus, ma ci sarà il procuratore del CONI, il quale, vi sto dicendo una cosa che probabilmente già sapete, ma che tecnicamente è possibile, già il procuratore del CONI potrebbe chiedere il non procedersi e l'accettazione del ricorso della Juventus, lo può fare già il procuratore, anche dal punto di vista etico se ci fosse stata la FIGC non lo avrebbe mai fatto, oggi in considerazione dei ricorsi della Juventus già il procuratore dice, potrà dire accettate il ricorso della Juventus. È una ipotesi possibile, io ritengo sempre che questi confermeranno la sentenza del 20 gennaio, anzi la porcheria del 20 gennaio, perché io sono pessimista, io non credo a questi qua, questi sono dei banditi a tutti i livelli, quindi io non li credo. Però vi dico subito che c'è questa possibilità che appunto il procuratore del CONI, lette i ricorsi della Juventus, lette le carte, ha come opzione anche quella di chiedere che venga subito accorto il ricorso della Juventus al collegio di garanzia. Mi fermo qui, naturalmente vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, a mettere la campanella delle notifiche, a lasciare un like se vi è piaciuto il video, ma anche a fare dei commenti intelligenti e seri, perché altrimenti li cancello o vi mando a quel paese, al paese di Beppe Grillo, perché là vi mando. Vi ringrazio ancora una volta, ci vediamo al prossimo contenuto. Grazie. 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 Grazie.